e benvenuti e bentrovati a tutti su questa Villegis Late Night grazie 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 per essere con noi come sempre insieme a me il grande e mitico unico Andy Baldacci ciao a tutti ciao Danilo il mio assiduo compagno di banco e nonché domatore di leoni quindi senza di lui sapete che tutto questo non potrebbe mai sussistere in quanto nessuno riesce a tenere le briglie come lui assolutamente lui Baldaccius è un personaggio estremamente vivace quindi ci vuole una certa forza Danilo la timeline la conosci fermami o tira le briglie perché come sempre vado a braccio molto stavo dicendo che questa è non so perché ero convinto che avessimo fatto un'altra live dopo il live di settembre questa è la prima quindi bello bello ci sono un sacco di chiacchiere assolutamente live fichissimo è andato molto molto bene ci sono un sacco di chiacchiere e di ringraziamenti che volevo fare a un po' il popolo sì ci sono un domination e pistola il mio primo nexus bello sei il mio tesoro calcolate che prima della prossima evento il nostro il plebo sarà il nostro orpite per forza Danilo perché è un personaggio unico ok calcola che ha fatto il live di giugno come visitatore ok e boom settembre come giocatore come hai visto funziona la visita assolutamente sì e comunque poi mi ha dato un sacco di feedback un sacco di informazioni insomma è un bel personaggio che sai che io a me piacerebbe invitare tutti qui con noi sì lo so e sono io che ti tengo a freno da questa idea mazzana mi hanno detto che invitare boh 7,8,10,20 persone sarebbe difficile io so che la nostra oscura presenza potrebbe fare questo e altro però mi dicono che sì non si capirebbe niente il problema è quello che non si capirebbe assolutamente niente nel frattempo la regia viene addirittura insomma riceve dei messaggi d'amore in chat incredibili tutto questo assolutamente assolutamente ma sì a vostro assuramento mi pare che sia andato abbastanza bene perché giustamente tu hai avuto un bel feedback ed è una di quelle cose che in realtà mi incuriosiscono tanto che è il feedback di quelli che sono magari alle prime esperienze con Villegis e che quindi hanno un punto di vista totalmente diverso dal nostro che conosciamo ogni minimo angolo e dettaglio di tutto quello che c'è sia davanti che dietro quindi mi piace un sacco sentire i feedback di chi si approccia per la prima volta al nostro mondo ti dicono cose proprio ti vedono e vedono la sfera da un'angolazione con una luce totalmente nuova e quindi è proprio è proprio bello poi ripeto a me fanno piacere i complimenti le critiche costruttive le opinioni anche quelle non concordi che però hanno uno sfondo di positività quindi quindi sono quelle che poi ci fanno crescere tanto l'altra sera ho fatto una riunione con un paio di gruppi di un campo e a me è stata utilissima spero che è stato utile a loro quanto a me perché comunque con tutto che noi abbiamo tanti occhi tante tante orecchie non possiamo stare dappertutto quindi il chiacchierare con voi per noi è una fonte inesauribile di informazioni per migliorare gli eventi dopo quindi bello bello oltretutto dall'ultima volta stiamo a ben 779 follower prima mi hanno detto di non dire niente ma io non ce la faccio ragazzi dai arriviamo a 800 stasera se arriviamo a 800 facciamo il regalo 800 dai che ce la facciamo mamma mia ragazzi abbiamo questo compito facciamo venire un sacco di persone superiamo gli 800 che strappo a baldaccio un premio strappo a baldaccio un premio per voi ovviamente assolutamente sì assolutamente sì quindi l'evento è stato bello pieno anche la pioggerellina la chiamo pioggerellina perché chi è pratico di villeggi sta visto ah questa era sì però la pioggerellina ha tenuto la temperatura mite non ha fatto alzare la polvere non ha rotto poi troppo le palle guarda se si faceva un tre quarti d'ora meno saremmo stati più contenti però va bene va bene sì però insomma diciamo che abbiamo visto di peggio abbiamo visto di peggio sì diciamo che il vento ha fatto qualche ha dato qualche problema e poi farò una parentesi su questo argomento ecco argomento meteo però insomma è stato secondo me pieno giocato giorni belli vissuti notti infuocate userei dire infuocate giovedì e venerdì venerdì è stata la giornata che a un certo punto anche diciamo i nexus più veterani e più allenati ho detto André sono devastato sabato mattina sembravamo dei vecchi dei vecchi dopo la corta del secolo tutti con gli acciacchi zoppicava e bello 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 allora intanto volevo ringraziare Basilil per l'iscrizione con Twitch Prime e fra l'altro il quinto mese quindi insomma grazie a Basilil oh grazie caro e e caccola che noi siamo una tantina di persone e stasera è ovvio che c'è una si parlerà di un argomento che tutti ci avete chiesto direttamente già da settembre ok ma si farà la rocca ma la rocca c'è che facciamo prendo le ferie mi sono arrivati anche dei messaggi Andrea dammi un periodo io prendo le ferie e poi vediamo che succede ragazzi non vi ho potuto dare delle risposte prima ma perché non ce l'avevamo era troppo troppo eh buttato a casa darvi delle risposte in precedenza sapendo che voi dovete prendere ferie biglietti di treno aereo e cose varie ma finalmente lunedì sono andato a vedere i lavori da castello vedo ancora delle sub eh Jimmy Fender Jimmy Fender sì 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 un'altra sub grazie ragazzi il plebo si è iscritto no con Twitch Prime quindi ancora meglio quindi grazie infinitamente eh allora lunedì Danilo sono stato a castello eccolo non vi niego dico che eh avevo timore di vedere di vedere com'era a che punto stavano i lavori invece sono stato proprio contento di vedere cosa hanno fatto già cosa cosa hanno chiuso e quanto gli manca quindi siamo in addirittura d'arrivo eh la consegna è prevista per tra qualche giorno è ovvio che come sempre accade sempre andranno un po' lunghi ma diciamo che noi ci siamo tutelati accaparrandoci eccoci signori ci siamo il weekend dal 5 all'8 dicembre eccoci 5 8 dicembre 8 dicembre ragazzi per favore non incominciate da ora a chiamare tardi per chiamare il paese la nonna la zia l'amica della zia per prenotare casa il magazzino fatelo domani domani c'è tempo quindi confermiamo la data dal 5 all'8 dicembre nei prossimi giorni usciranno tutti i dettagli descrizioni tutto quanto ma intanto vi diamo la data che è quella che sappiamo che vi interessa per ferie per messi uccisioni di capi per venire cioè tutte quelle cose che di solito fate per riuscire a essere presenti a più live possibili io però ti faccio una domanda scomoda Andrea perché io ho qua la scaletta davanti e la scaletta utilizza è giusto stiamo parlando di questa cosa però nella scaletta non c'è scritto la prossima rocca c'è scritto le prossime rocche che vuol dire è certo perché diciamo che aspettavamo con ansia questo fine lavori anche perché essendoci trovati molto bene con l'amministrazione del comune di Graffignano ma proprio col paese e questo me l'avete detto anche voi mi siete trovati chiunque di voi mi ha parlato bene del paese dell'accoglienza delle persone dal bar alla panetteria tutti anche Danilo c'era un gruppo non faccio nomi un gruppo che mi diceva che l'appartamento dove stava la signora tutte le mattine gli faceva tornare trovare un dolce fatto in casa per colazione cioè tutte le mattine quindi è stato sono stati il paese è stato squisito quindi la nostra idea è di fare più eventi lì l'idea da gennaio a giugno non di fare un classico evento di rocca tra gennaio e giugno ma di fare ben due due rocche quindi aumentare di uno gli eventi questo perché perché ci piace il castello perché questa è una nota un po' dolente ogni evento avrà un numero di partecipanti leggermente più basso dell'ultimo evento questo perché vogliamo farvi apprezzare al meglio l'evento ne facciamo uno in più non saranno uguali ora vi dico anche qualche minimo spoiler su questa cosa senza allargarci troppo Andrea che poi dalla regia mi fucilano quando è fai tasto tasto muta muta tutto mi cala la tapparella regia stacca tutto stacca tutto a un certo punto e quindi faremo un evento in più numeri leggermente più più bassi ma faremo tre eventi uguali no non ci piace assolutamente quindi cercheremo di fare dei format totalmente diversi ora abbiamo tante idee in mente e quindi non abbiamo neanche ancora un'idea unica precisa e chiara per gli altri tipologie di format però abbiamo per esempio visto che il format di live di casata è andato molto bene e quindi pensando a questa cosa sarebbe bello però fare un live di casata con magari due tre casate quindi mettere la componente live di casata che ci è piaciuta e aggiungere una componente dove le casate magari hanno qualcosa da fare tra di loro in antagonismo in alleanza ma comunque creare una situazione del genere quindi per l'anno prossimo nuove tipologie di evento ma intanto dal 5 all'8 dicembre ritorniamo alla Rocca ritorniamo a Grafignano ritorniamo a Grafignano per la Rocca ovviamente mai uno uguale all'altra perché non penso che ci sia mai stato un evento identico identico all'altro ma comunque diciamo classica aperto tutti i campi e ovvio potrebbe cambiare anche qualcosa dentro noi ogni volta mettiamo casate accademie cambiamo posto poi vediamo questo è sempre una sorpresa mi ricordo quell'evento a Montenero Sabino dove una mattina si sono trovati il castello occupato quindi magari arrivate e il castello non è vostro di qualcun altro e quindi insomma i 10 ce ne stanno tantissime tante ne abbiamo e tante ce ne date voi giocando quindi quindi ci sono tante idee e sicuramente ci saranno tutta una serie di opzioni valutabili e credo che ci voglia anche essere un po' l'input da parte dei giocatori di capire un po' magari con dei sondaggi che tipo di risposta gli piacerebbe insomma un po' come abbiamo successo per i live di casata che sono partiti dall'input anche dei pigiro assolutamente sì assolutamente sì e ovviamente come sempre lo dico per chi magari non ha fatto etterò che in questo evento non dormiamo all'interno del castello giochiamo solo nintendo nel castello ci saranno i soliti due modi per dormire nelle camerate compreso nel biglietto che noi metteremo o in bnb in posti esterni ce ne sono diversi tanti già li conoscete e comunque sapete ci siamo resi conto che siete bravissimi a trovare agganci per case monolocali garage e tutto quanto quindi diciamo che ormai già avete i vostri contatti e altre informazioni parentesi i lavori che hanno fatto sono belli è figo perché per chi c'è stato la camerata quella grossa sopra l'hanno tutta rimessa a posto hanno rimesso a posto tutte le finestre sopra sono bellissime ora a parte che si chiudono quindi abbiamo gli spifferi dappertutto e cose varie e quindi insomma è bello vedere come il programma per il futuro è sempre di miglioramento e soprattutto la voglia del comune di fare più aumenti possibili ma fare più aumenti possibili far sì che sia vissuto questo è io non smetto mai di nominare di nominare di ringraziare in amministrazione del comune perché non è stato non è sempre così in questo caso è proprio piacevole avere a che fare con un comune che è contento che non vede l'ora di rivederci l'altro giorno quando ho fatto un giro di saluti tutti mi hanno parlato di voi dei giocatori di quanto siete stati carini gentili cordiali bellissimi hanno tutti un bellissimo ricordo di voi e non vedo l'ora di rivedervi quindi questo è questo è un po' l'idea Castello e beh allora io direi che secondo me potrebbe essere arrivato già faccio cenno alla regia che sa di cosa stiamo andando a parlare di invitare un ospite qui con noi un ospite che è un nuovo sponsor di Battle for Villages è un volto che potrebbe essere noto a qualcuno potrebbe non lo so potrebbe metteremo alla prova regia ci fai integrare eccoci qua benvenuta Gloria buonasera buonasera ma guarda chi c'è ciao Gloria ben arrivata che emozione mamma mia che emozione e quindi abbiamo con noi Gloria che come dicevamo come abbiamo detto poc'anzi è un nuovo sponsor perché non è nella sua semplice figura di Tessa Vassago che tutti voi amate alla follia come si fa non amare Tessa Vassago ma per parlarci di Patchit quindi assolutamente sì Gloria grazie per l'opportunità Gloria parlaci un po' di Patchit di che si tratta di che stiamo parlando allora Patchit è un'idea che ho avuto già diverso tempo fa ed è rivolta sostanzialmente ai nuovi giocatori quindi a tutti coloro che si approcciano per la prima volta al gioco di ruolo e non sanno bene come vestirsi perché confrontandomi con giocatori nuovi durante gli eventi oppure durante le fiere mi sono resa conto che spesso arrivano non sapendo bene che cosa li aspetta e fanno un po' di esperienza durante i primi il primo o il secondo evento e dopo decidono quale impronta dare al personaggio a quel punto magari decidono di farsi fare un vestito su misura che io sono piena di vestiti su misura quindi è una cosa che caldeggio moltissimo però ho pensato se per questi primi live in cui ancora devono decidere bene che cosa giocare e come caratterizzarlo avessero la possibilità di acquistare ad un prezzo contenuto un set di abiti pensato appositamente per i giocatori di ruolo e quindi che fa fronte anche alle necessità climatiche che si incontrano sulla piana quindi magari il caldo durante il giorno l'umidità e il fresco durante la notte non sarebbe una bella idea e se oltretutto questi set fossero unici cioè effettivamente tutti diversi l'uno dall'altro questo darebbe già un carattere al al pg e magari dando anche una mano dal punto di vista interpretativo ma senti ma è pensato solo per i nuovi o c'è anche magari qualche old player potrebbe cercare di pescare ovviamente è pensato anche per quei giocatori non esattamente di primo pelo che però magari hanno un solo vestito quello figo e non hanno un cambio quindi possono magari procurarsi un cambio in questo modo oppure hanno deciso di farsi uno due eventi giocando un altro personaggio e quindi anche qui hanno un set di abiti molto caratterizzato che potrebbe fare il caso loro andrea volevi dire qualcosa mi sembra a me piace tantissimo questa idea da quando mi è stata detta perché è palese che è un'idea nata dalla passione del gioco da chi il gioco lo tocca lo vive proprio lo conosce alla radice e quindi proprio nata dall'idea di aiutare chi soprattutto chi si affaccia per le prime volte o chi come diceva magari già ha un altro personaggio vuole un secondo vestito una cosa caratterizzata diversamente quindi non un abito uguale a tutti personalizzato ma a basso costo quindi è una cosa fighissima che a mio avviso darà un enorme aiuto perché noi in fiera parliamo con una marea di persone e questa è la prima domanda che mi metto come mi vesto come faccio quanto devo spendere è ovvio che le prime domande sono sempre queste da sempre avere un'altra possibilità perché è ovvio che noi abbiamo già tanti sponsor alcuni ormai affermatissimi da anni e così ma dare un'altra possibilità diversa perché è una possibilità un entry level a basso costo ma personalizzata quindi tu hai una caratterizzazione tua è unico giusto gloria sono tutti unici tutti perché sostanzialmente il processo di creazione di un set per me comincia da reperire i singoli elementi che però devono avere delle caratteristiche particolari devono essere fatti con materiali giusti quindi prediligo i materiali naturali o al massimo i tessuti misti soprattutto per le parti a contatto con la pelle e oltretutto lo faccio a strati cioè il vestito leggero per il giorno magari con la possibilità di staccare la manica o con le maniche corte e poi il mantello o la giacca per la sera se vedo che il set non è completo c'è qualcosa che manca mi piacerebbe aggiungerci la realizzo io a mano premetto che io non faccio vestiti su misura quindi ovviamente i set avranno quelle misure standard che purtroppo si legano un po' la corporatura al set ma cerco di fare diversi set con diverse misure quindi bene o male ce n'è un po' per tutti può capitare che poiché spesso prendo vestiti che comunque sono usati ma comunque in ottimo stato perché il set nel momento in cui lo consegno deve essere perfetto mi prodigo io nel rimetterli a posto rimetterli in sesto magari tingerli anche con soluzioni che li rendano magari un pochino più storici un pochino più fantasy poi c'è anche un'altra piccola cosa a cui ho pensato e cioè di confrontarmi con i miei amici che sono anche sponsor di Battle for Villages che hanno realizzato magari anche cose che indosso io per al fine di rendere disponibili dei piccoli sconti spendibili tramite di loro quando una persona acquista un set da me e quindi acquistandosi anche questo sconto che poi permette di rendere un pochino più facile avere il vestito su misura o l'accessorio su misura senti Gloria in chat ci chiedono se esiste un sito o qualcosa in cui si possono visualizzare i set se c'è un qualche una pagina allora esiste una pagina in profilo instagram che si chiama appunto patchit se scrivete patchit o patchit larp dovrebbe uscirvi in cui in questi giorni ho caricato dei piccoli spoiler poi a seguito di questa live metterò i primi tre set nei prossimi giorni quindi se cliccate su segui li potrete vedere quindi mi raccomando andate tutti su instagram patchit o patchit larp e iscrivetevi subito perché se no Andrea Baldacci vi sgancia i cani addosso e vi venga a cioccare notte comunque io ho avuto questa idea pensando a come ho iniziato io a giocare di ruolo che mi facevo i vestiti da sola e ogni volta erano ovviamente un po' raffazzonati perché poi ho iniziato a giocare che avevo 16 anni quindi ma cosa dici sì dai non era li facevo io a mano per me erano sempre imperfetti adesso sono migliorata molto guarda c'era in tre eravate in tre eravate il trio che poi venivate in fiera con vestiti fatti da voi eravate sempre fighissime in qualsiasi tipo di versione io ancora mi ricordo quando siete venute tutte e tre vestite diciamo post apocalittiche spettacolari spettacolari oltretutto aggiungo che anche l'idea di essere in tutto è per tutto un entry level quindi poi dare uno sconto un aiuto per poi il vestito fatto su misura o i gadget personalizzati questo secondo me è importantissimo perché chiude un cerchio e aiuta perché io ripeto in fiera romics abbiamo parlato con decine e decine di persone quest'anno romics è stato un assalto di persone e che ci ha chiesto informate alcune già hanno comprati il biglietto quindi fomentate e queste però sono le domande che a volte fermano le problematiche che fermano le persone e questo secondo me potrebbe essere un'ottima cosa per aiutare proprio la partenza si ovviamente verso un abito su misura un'arma un gadget ormai abbiamo di tutto fortunatamente abbiamo un un palcoscenico di artigiani intorno a noi enorme quindi poi quando si va quando si è scelti il personaggio e si vuole fare la cosa su misura scelta c'è solo l'imbarazzo ma spesso la partenza è complicata a volte vediamo anche cose bruttine bruttine quindi diciamo che sarebbe bene cominciare con un kit di budget piuttosto che con la maglietta girata al contrario per darvi un'idea ovviamente non sto qui a dire i prezzi però io cerco sempre di mantenere il range basso e quindi i set che creo cerco sempre di farli stare tra i 50 e i 100 euro cioè di non fargli superare quella quello scoglio quindi un po' ce n'è per tutte le tasse un'intenera del perfetto un'intenera del perfetto proprio per poi avere magari tenere quello come secondo vestito e poi una volta che ho scelto cosa fare i miei colori anche il tipo di gioco che magari quanta gente arriva pensando di fare il guerriero e poi dopo l'evento cambia totalmente scheda perché va a fare il curatore o il contrario quindi ogni tipologia di gioco ha anche un abbigliamento un po' diverso quindi questo potrebbe essere proprio un modo per entrare e poi scegliere meglio il proprio vestito quindi Gloria ha un enorme in bocca al lupo ma tanto so che non ti sento perché l'idea è spettacolare vi ringrazio io ho linkato il la pagina Instagram l'account Instagram di Patchit LARP quindi potete cliccare sul link che trovate in chat ringraziamo tantissimo Gloria e le auguriamo ovviamente il massimo avrei tanto voluto che quando ho cominciato io a giocare ci fosse qualcuno che faceva i kit entry level e non devo chiedere a mia nonna di cucire il panno lench per farmi il mantello lo terremo sono ricordi che terremo sempre vicino al nostro cuore sempre nel cuore grazie mille gloria grazie a voi a presto la potenza della nostra oscura presenza vedi guarda 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 sta a vedere che cambia c'è professionismo siamo ad altissimi livelli proprio siamo ad altissimi altissimi livelli qua si rischia seriamente l'oscar per la regia dicevamo posso fare un po' di chiacchiere su questo evento che è passato ma si 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 dai ti concedo cinque minuti perché se no tu lo fai fino alle undici e mezza volevo come prima cosa primissima volevo fare un enorme ringraziamento a tutti i giocatori perché dopo l'evento di giugno che mi avete fatto proprio incazzare su un sacco di cose questo evento siete stati bravissimi ho una foto aerea con le macchine parcheggiate sembrava parcheggio dell'aeroporto precisi ordinati nessuno in mezzo alle palle nessuno vicino ai bagni nessuno vicino alle cisterne ragazzi una cosa spettacolare spero spero che a voi non abbia creato nessun problema ma a noi credetemi che ha dato una grandissima mano grandissima mano e anche l'uso dell'acqua è stato gestito meglio anche di questo vi ringrazio ancora lì possiamo un po' migliorare ci sono stati un paio di aneddoti che successe mentre ero in bagno un po' curiosi che fanno sorridere in quanto io continuo a fare video dal bagno per spiegare come aprire e chiudere un rubinetto e poi ero in bagno e si sente ragazzi ma com'è sta cosa del rubinetto è un atto da fuori oh lo apri e lo chiudi ah ok io ero lì un po' stavo morendo dentro e un po' ridevi un po' ridevi e un po' ridevo perché ero nel dubbio se uscire e strillare come un pazzo oppure metteva ride come uno scemo però vabbè alla fine mi sono fatto i cavoli miei tanto si sono aiutati a vicenda però non vi preoccupate che continuerò con i video e so che vi fanno un sacco ridere immagino e so che vorrei usare continuare a usare la presenza di Vitol lo schiavo dell'anello sì che secondo me è stato pure lui candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista ha fatto una performance di altri tempi assolutamente quindi continueremo a fare dei video insieme a Vito anche su temi più seri o temi di gioco sempre in chiave leggermente ironica perché quello che mi è sembrato che un video un po' simpatico magari viene visto con piacere e magari un po' a destra un po' manca arrivano delle buone informazioni new follower lo vedi che ci arriviamo 800 dai ragazzi nel frattempo comunque ragazzi io vi devo ringraziare perché sono arrivate un sacco di altre iscrizioni grazie a team jager grazie a rubeus93 grazie a btv comunque un sacco un sacco di iscrizioni abbiamo avuto più iscrizioni che follower c'è una cosa molto bella buono buono new follower vedi 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 che qua ci arriviamo raga ragazzi fatevi questo regalo arriviamo a 800 follower stasera io a baldacci strappo un secondo giveaway ecco fatto già è fatto è fatto 800 secondo giveaway perché tra un po' apriamo il primo giusto assolutamente appena finiamo voi dovete rimanere qua perché sennò la giveaway serve proprio a questo a farci a fare parlare Andrea Baldacci dello scorso evento quindi assolutamente faremo i video tutorial delle chiamate ragazzi io ve lo dico subito faremo dei video tutorial in cui un po' vi capite mi genere vi prenderò un po' per il culo facendo degli esempi su cose assolutamente esileranti che vediamo quante siamo in mezzo alla campane quindi scene strane gente che prende un calling invece si catapulta dietro fa tre capriole scappa come un coniglio non so che cosa ha sentito cose ma cosa ha sentito e quindi faremo anche dei video sempre con mio fedele fedele compagno e faremo dei video sulle varie chiamate anche su delle piccole dinamiche di combattimento li faremo ora ci abbiamo un po' di mesi è una cosa che mi ero già ripromesso già vi avevo detto non l'ho fatta ma in quest'inverno la facciamo ovviamente sfrutterò anche i miei figli come pungibolla per essere picchiati Andrea non lo dire in live che ci denunciano subito no i ragazzini si diverteranno tantissimo facendo un video col papà assolutamente assolutamente e quindi evento di settembre queste sono le cose di cui vi volevo veramente ringraziare è andato io non ho grosse non ho nessuna problematica sorta in maniera logistica a settembre è girato tutto bene con tutto che c'è stata la pioggia dellina è girato bene quello che è successo ecco un po' mi vengono in mente prima del prima del Mente Montavale a giugno una a settembre una marea di gente mi ha chiesto Andrea ma giugno fa caldo spostiamo la settembre fa caldo spostiamo l'ottobre torniamo all'ultimo ma spostiamo l'evento in momenti dove fa meno caldo ragazzi noi come vi diciamo sempre non abbiamo una totale libertà perché comunque abbiamo dei vincoli come la stagione di caccia taglio delle erbe cose varie ma la cosa più grossa è il meteo perché purtroppo se ci spostiamo verso ottobre la possibilità di violente piogge non quella di settembre violente piogge o un vento enormemente caldo o forte si alzi in maniera trattica per farvi capire in questo evento diversi gruppi hanno avuto problemi come i gazebbi per il vento ma non c'è stato vento ragazzi una settimana prima dell'evento c'è stata una giornata di vento che avrebbe pulito la piana dai gazebbi quindi il motivo per cui non ci muoviamo dai periodi anche se un po' più caldi è perché è vero che sono un po' più caldi ma il caldo genera dei problemi ovvio stanca di più c'è la polvere ma sappiamo che pioggia e vento forte si spezza totalmente il gioco non siamo preparati non siamo pronti ma proprio come come paese assolutamente assolutamente dove non piove tanto quindi non c'è la l'elasticità la consapevolezza l'equipaggiamento per giocare sotto la pioggia tende bagnati senza scarpe senza problemi quindi e oltretutto aggiungo perché poi mi state fine settembre metteteci in mezzo che abbiamo anche delle fiere quindi c'è lucca comunque dobbiamo fare un evento la settimana prima o la settimana dopo l'omix per noi è impossibile quindi non pensate che le date le tiriamo con i due dati da 100 o il dato da 30 e il dato da 12 ovviamente le date sono un po' cercate incastrate con meteo e eventi sapendo che qualcosa può non andare faccio un esempio io ero convinto che la data di settembre cadesse prima dell'inizio delle scuole perché sul ministero diceva così e invece ogni scuola fa come cazzo gli pare e quindi una marea di scuole hanno anticipato l'inizio della scuola 3-4 giorni raga non lo potevo cioè nel senso non lo potevo sapere la scuola di mio figlio hanno comunicato all'inizio due settimane prima dell'inizio della scuola la follia per me però così è purtroppo quindi vabbè questo è questo è quanto le date di giugno le date di giugno giugno c'è un'enorme novità Danilo ah perché aspetta che cosperta dove stai andando tu già era partito quello viene dopo dopo ah viene dopo sai che cosa dobbiamo fare adesso dobbiamo chiedere alla somma regia di farci mandarci in grafica un bel codice per fare partire il giveaway ah perfetto è arrivato proprio il momento di fare partire il giveaway partiamo 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 mamma mia allora Andrea prima prima della live mi hanno detto no vabbè ma è impossibile arrivare a 800 e io ho detto guarda che se si impegnano i ragazzi guarda che sono forti eh e quindi stasera state state dando il meglio ma guarda quanto sono stato scarso ho lanciato il giveaway ma non vi ho detto cos'è il giveaway l'avrete intuito ma è un ingresso per giugno 2025 per Age of Guardians di giugno del quale parleremo un pochino dopo ma prima ci abbiamo un'altra cosa plurale che io vorrei capire che cosa vuol dire perché ci abbiamo nuovi manuali di gioco sulla nostra scaletta quindi la domanda che chiunque la domanda che chiunque si andrebbe a porre leggendo è che vuol dire nuovi manuali il manuale di gioco da un po' è uno da un po' in passato per i più veterani i più veterani si ricordano che in passato avevamo due manuali base ed avanzato poi abbiamo provato a fare l'unione pensando che potesse essere più usufruibile più congeniale più comodo per le persone dopo un po' di anni un po' di cambiamenti rifugia un po' di cose a questo punto come sapete è un po' che vi sto parlando di un nuovo regolamento aggiornato e cose varie abbiamo aspettato e richiamavamo tanti pensieri alcune prove fatte sul campo ma l'ultimo dei pensieri qual è? è ritornare a dividere i regolamenti cosa vuol dire due regolamenti? che ci sarà un regolamento chiamiamolo base che è un regolamento ovviamente più short dove ci saranno le informazioni essenziali basilari che tutti devono sapere bene quelle dinamiche che sono fondamentalmente necessarie a qualunque pg a prescindere dalla sua scelta professionale cosa non fai se fai le pozioni fai full plate o qualsiasi accademia o campo quelle cose basi le devi sapere quindi le chiamate le dinamiche di combattimento le regole di alcune attività fra un giocatore e un altro la cura devono sapere come tenere come fare alcune cose però sono molto inferiori a quello che poi è il chiamiamolo manuale avanzato non so se si chiamerà così quello che invece è poi tutta la lista di abilità e facettature di abilità che ormai sono tante e andranno sempre ad aumentare perché ogni tanto ci piace inserire la nuova abilità per quello per quella classe diciamo una pozione una runa qualcosa di diverso facciamo sempre qualcosa in più poi ci arriviamo ce l'abbiamo in scaletta non ti distrarre Andrea ora parliamo anche di Luca ti vedo io ci sarà sì per chi mi blocco non so bravo quindi ci saranno questo doppio manuale ragazzi questo nasce anche da un'altra necessità abbiamo la forte necessità di aiutarvi a sapere le regole di gioco le regole base purtroppo se devo dire l'unico neo che giugno ma anche settembre abbiamo un po' evidenziato nel gioco è che ancora c'è un po' di carenza sul regolamento di base non solo dei new player ma anche della quello che gioca magari da anni che l'ha letto il regolamento ma otto anni fa ma è cambiato totalmente no ma magari lo ricordi proprio c'è il dettaglio su quella regola il dettaglio su quella chiamata magari non non è più così fresco quindi questa è proprio l'idea di un manuale short dove magari prima di ogni evento una letta una letta non fa male sono poche pagine sono poche pagine si leggono eh così uno si rinfresca le idee nuovi e vecchi perché a volte mi capita Daniele in piana che il il veterano lo sento ad alta voce magari dare una dire no è così e dice una cazzata epica che io chiedo scusa in anticipo chiedo scusa a chiunque poi io ho preso un po' come capo l'espiratorio per fare questa cosa però è ovvio che nel momento che io sento in mezzo a una campagna un assedio un qualcuno che in maniera imperativa dice una regola sbagliata ragazzi io non posso fare altro che fermare tutto piallo e far capire a tutti quanto è sbagliato quello che ha detto perché così almeno tutti ricordano tutti capiscono che non si può non si può sbagliare ma non è che non si può perché l'errore non è quello contato un punto in meno l'errore è lo sbaglio della regola proprio che poi innesca ma rumori discussioni ci vuole poco non abbiamo le nostre regole base sono semplicissime perché è un regolamento nato per eventi di tante persone quindi questo è l'idea che vi troverete poi da qua a giugno abbiamo tempo nulla non è che viene stravolto nulla cambiamo soltanto lo dividiamo impaginiamo diversamente per aiutarvi ecco a dargli una letta prima dell'evento e vi svelerò anche un'altra cosa che non è vero che non cambia niente qualcosa potrebbe cambiare ci sono delle modifiche in arrivo non cambia però la struttura ovviamente perché qualcuno poi mi dice allora cambierà tutto no non cambia tutto il modo di giocare è quello la tipologia l'approccio al gioco che noi abbiamo è quello è sempre un gioco low power è sempre un gioco con chiamate sì ma non spammate ogni 5 secondi il nostro gioco è quello continua a essere quello ci sono alcuni dettagli ogni tanto facciamo una miglioriamo la spiegazione cambiamo un'abilità perché vediamo che può migliorare il gioco però a grandi linee è quello lo slip è quello dall'inizio dei tempi sì sì ok dal 2012 allora ragazzi io ho chiesto alla regia ma ci sono soltanto 63 iscritti a questo giveaway siamo 88 online vi fate vedere che la volete questo ingresso al prossimo giugno forse già l'hanno preso tutti guardate che anche se ce l'avete già biglietti in più dopo quell'altro si dà un amico ecco fatto è peccato buttarlo no poi non lo buttate lo vince qualcun altro ma io ci proverei fossi in voi Andrea visto che c'è stata fatta la domanda vogliamo un attimino ed abbiamo già accennato alla questione fiere andiamo a parlare un attimino di Lucca abbiamo una Lucca alle porte allora subito il first blood a Lucca ci sarà a 75 euro quindi meno come sempre 10 euro meno della fascia dovrebbe essere una cosa del genere quindi questo è questo è quanto non ci sono limiti è sempre lì allo stand e anche al primo face blood mi avete risposto in maniera sempre a bomba quindi a Romics sono venute una marea di persone una marea proprio sono sempre contento quando in fiera poi si vengono a trovare facciamo due chiacchiere sempre perché poi ci piace avere rapporto a me piace fare due chiacchiere con le persone ascoltare il loro racconto è sempre utile chiaro e anche in un momento in cui non c'è anche l'accaloramento dell'evento che magari certe volte fa uscire parole nervose esattamente stanchezza meno attenzione abbiamo dormito la sera prima ci siamo lavati la mattina quindi siamo tutti più tranquilli esatto e poi un contesto proprio diverso più più sereno più tranquillo fra l'altro quest'anno da quello che ho capito a Lucca mancano dieci per arrivare a ottocento ragazzi c'è il secondo giveaway fatemelo fare perché voglio vedere la faccia di Baldacci vedi Danilo che io ci credo a loro ci credo dieci solo dieci dai siamo novantuno ce la facciamo ce la facciamo followate followate fortissimo che facciamo questo secondo giveaway assolutamente ce la facciamo ho saputo che quest'anno fra l'altro a Lucca si ritorna al San Colombano è vero? facciamo ritorno al nostro primo dungeon cioè ho dei ricordi veramente incredibili di quel posto torniamo al San Colombano che è il bastione davanti al alla fermata del treno davanti a quindi poi scendete dal treno entrate dalla porta proprio dov'è il nostro dungeon quest'anno non siamo più esattamente sotto alla citadel ma siamo due bastioni più a sinistra più a destra se lo guardi da fuori e il dungeon il bastione San Colombano è veramente bello cioè veramente bellissimi è veramente uno dei primi da lì abbiamo iniziato a fare queste attività l'abbiamo all'inizio era una schifezza l'abbiamo ripulito l'abbiamo fatto mamma mia mamma mia alcuni big hanno hanno visto la bellezza di quelle parti di Lucca nascoste e e quindi poi abbiamo cambiato e al San Paolino per esempio dove di solito siamo noi c'è una mostra per il cinquantennale di Dungeons and Dragons ci sta quindi sempre inerente un po' al a tutto a tutto il nostro vasto mondo serve il biglietto del comics ci chiedono o siete fuori no 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 sicuramente tutte le nostre attività sono free diciamo sono fuori dalle aree con biglietto ovviamente a noi ci fa tantissimo piacere se venite in costume oltretutto sicuramente metteremo anche prima di Lucca online un po' degli appuntamenti giornalieri dove se venite col costume ci facciamo insieme una sfilata una piccola arena di combattimento ci facciamo un po' i galletti ci facciamo vedere abbiamo come sempre il nostro ordo melodico che ci accompagna con la musica e ci piace andare in giro un po' un po' a pavoneggiarci e quindi e ci fa piacere se venite se state con noi a fare due chiacchiere a stare un po' con noi ripeto come ho detto prima Danilo la fiera per me è un bel momento dove avere un rapporto tranquillo una chiacchiera e un po' con tutti meno 7 signori meno 7 793 meno 7 secondo me che giovedì alla sala in gennis nel games quindi per chi ha il biglietto faremo una conferenza con due psicologi è una neuropsichiatra infantile per quanto riguarda questo nostro pazzo mondo dell'ARP che ormai tanti professionisti stanno utilizzando come mezzo per avere per le loro attività ne sono anche l'anno scorso l'abbiamo fatto con Claudio Tramentozzi che è lo psicologo che poi segue i più piccoli durante l'evento ma in questo caso ci sarà anche Marco Scicchitano e Elena Leoni che sono gli altri due che fanno questa attività e che hanno abbracciato a quattro mani l'ARP come mezzo utile per le loro attività aggiungo questa cosa perché mi fa tanto piacere anche a settembre durante l'evento abbiamo ospitato vari amici vari gruppi di ragazzi che sicuramente avete visto in giro anzi ringrazio non so esattamente chi ma ringrazio perché questi professionisti quando vengono la prima cosa che mi dicono è la bellissima risposta e disponibilità che hanno da parte vostra e questo ragazzi a me mi riempie il cuore perché vuol dire che è vero quello che penso che quando parcate quel cancello mi fate incazzare a volte spingete il cervello e fate le cose più sceme del mondo ma è anche vero che in molti moltissimi versi date il meglio di quello che può essere la natura umana disponibili veramente lo fate ogni volta che queste persone mi parlano di voi sono contentissime di questo vi ringrazio perché siete il pezzo unico i pilastri di questa cosa e quindi niente questa è questa conferenza per chi vuole passare giovedì dalle 14 e 15 alle 15 e 15 alla sala Ingenis al Games anche il progetto piccoli a settembre è andato molto bene stiamo ancora affinando l'unione dei piccoli e grandi durante gli eventi ma siamo migliorati stiamo migliorando di volta in volta la perfezione è ancora lontana ma ci stiamo impegnando ma la Parma diventa lunga no guarda c'è un amico che sta proprio a Parma e quest'anno è venuto con la figlia è venuto tre giorni è andata al B&B relax si è fatto la figlia però ha detto papà io non voglio più andare a B&B perché io devo ho gli appuntamenti di notte per fare delle cose quindi la tenda il camper qualsiasi cosa ma io devo rimanere sul campo a giocare questa la figlia di otto anni che come prima volta ha fatto delle giocate sei il Rino che penso io quello che ha scritto è che non gli piace proprio fare molto vero Rino? quindi sono tutte scuse che sta accampando vi apporta tua figlia che sono sicuro che si diverte e quindi infatti lo sapevo che eri tu e quindi diciamo ragazzi ricordiamo rifacciamo il punto della questione Bastione San Colombano ci saranno tutta una serie di attività una bellissima conferenza giovedì dalle due e un quarto alle tre e un quarto non ve la perdete se siete al padiglione games pubblicheremo nei prossimi giorni anche un preview di quello che dovrebbe essere il programma delle attività durante la fiera quindi se andate a Lucca veniteci a trovare veniteci a trovare sia per il first blog ma anche per farci per farci quattro chiacchiere e di Lucca abbiamo detto direi tutto abbastanza abbastanza quindi io parlerei del nostro della questione portale schede online no? del sì sì allora è abbastanza veloce è abbastanza vi dico due cose al volo tanto fortunatamente ora abbiamo tanti mesi prima cosa eh avendo da settembre avendo un po' di mesi eh i punti sono stati assegnati ora eh a tutti ma abbiamo tante persone che ancora non hanno la scheda online ragazzi senza scheda online il punto non arriva e qui nasce l'unico in topo logistico che c'è stato a settembre che io capisco la vita gli impegni il lavoro la famiglia i bambini il cani il gatto con la tosse il topo che ha dato un mozzico al gatto però non vi potete ricordare il giorno prima dell'evento eh in sanità di queste cose perché noi diciamo già una settimana prima di quando voi arrivate siamo nel pieno della preparazione diventa estremamente difficile puoi stare dietro a tutti l'abbiamo fatto fino a quando abbiamo potuto fino al lunedì prima dell'evento alle due di notte ma è difficile quindi abbiamo dato il punto a tutti quanti se a qualcuno non è arrivato il punto di settembre e ha la scheda online comunicasse subito a skill chiocciola matterforbiregis.com se non avete ancora fatto la scheda online fate la scheda perché senza scheda non potremmo assegnarvi il punto calcolate che tra un paio di settimane proviamo a reinserire i codici fiscali delle persone che non abbiamo trovato non abbiamo trovato la scheda così cerchiamo di assegnare anche più ritardatari però vi prego sbrigatevi e soprattutto controllate prima perché ci potrebbe essere stato qualche problema ragazzi vi dico anche sinceramente io non ricontrollo uno a uno i vostri codici fiscali e a volte ci sono tanti errori piccoli o grossi ora non voglio fare raccontarvi che a volte riuscite anche a sbagliare il nome o il cognome o la data di nascita è ovvio sono errori di distrazione quindi figuriamoci il codice fiscale quindi ci sono n casi in cui potrebbe essere un errore banale per cui non è arrivato non abbiamo caricato il punto controllate anche in questi giorni e scriveteci a skin una volta che avete scritto skin non vi preoccupate che andando a ruota risponderemo e controlleremo tutto e idem le abilità aggiunte durante il live non vi preoccupate che a breve saranno tutte aggiornate non non ci perdiamo nulla quindi non vi preoccupate che sono sono messe in banca come si dice ok quindi mi sembra anche qui di aver detto tutto velocemente sì penso proprio penso proprio di sì cioè nel senso la questione è questa non aspettate l'ultimo minuto e non non cominciate a terrorizzarvi dopo un giorno che è finito l'evento quindi cerchiamo di mantenere il solito senso il buon senso no è chiaro che nelle 48 ore successive al live difficilmente si potrà fare tutto il lavoro che c'è dietro a fare il doppio controllo e all'assegnazione dei punti e non vi aspettate che la settimana dell'evento si possa ancora mettere lì sul sito ci sono mille altre cose da fare quindi la logica vorrebbe essere questa Andrea finalmente io nel frattempo vedo che tu leggi e vuoi rispondere a qualcosa per esempio c'è uno di di chi si è venuto a trovare un nuovo interessato che ha parlato con Andrea a Romics che ti ha detto un sacco di cose ma non come si mangia è molto libero quindi puoi portarti da mangiare tu e ci sono dei catering nella città dove potrai trovare effettivamente ormai di tutto sia da bere che da mangiare quindi puoi approcciare in ambo i modi portandoti qualcosa o mangiando tutti i pasti o facendo un mix delle due cose quindi diciamo che la sussistenza del cibo non è un non è un problema grosso la cosa importante per i nuovi giocatori come sempre diciamo prima di ogni mente è portarsi un buon cambio di cazzini un buon cambio di abito gli abiti sotto cioè arrivare e far sì che il il meteo o la la preparazione base quella che potrebbe essere uguale per un campeggio o per una escursione in montagna non sia quello che ti fa vivere male l'evento e idratatevi idratatevi con l'acqua esattamente benete con l'acqua ricordiamoci l'acqua perché il vino non idrata la birra non idrata è piacevole ma non idrata no 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 paghi paghi a pasto per quello che prendi non ci sono quote quote totali quindi scusate infatti rispondo a una new entry comunque se ad oggi non avete ancora il vostro punto anzianità scrivete una mail a skill esattamente esattamente e cosa è successo Danilo quanto siamo a follower a follower credo che siamo a 794 vediamo se è vero ragazzi non mi deludete 794 e questi ultimi 6 stanno vogliono sudare allora allora fermi passiamo passiamo al al punto che tu volevi tanto infatti giugno l'evento di giugno al punto di cui tanto volevi parlare l'evento di giugno è strano quest'anno è particolare però forse cose da dire pure di settembre Danilo non lo so ma dello scorso o del prossimo no dello scorso vai 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 settembre abbiamo fatto un'altra prova abbiamo cambiato un po' il il non il format abbiamo cambiato un po' l'ordine delle cose che accadevano facendo una battaglia alla caccia del rei sabato sera e facendo sì che la domenica mattina sia in teoria più leggera la realtà non mettere la caccia del rei la domenica mattina ha dato la possibilità di creare innumerevole gioco tantissimo a parte il fatto che c'è stato un mitico assedio di Gregoria a Devoras che è durato forse un'ora bellissimo divertentissimo ma oltretutto poi ci sono state entrate nei luoghi di potere giochi in città ci è piaciuto tanto a fine evento mi sono arrivati anche dei feedback positivi con critiche per raggiungere qualcosa noi ne abbiamo recepiti tutti sicuramente continueremo su questa strada cercando di far sì che la domenica mattina sia piena ma senza creare attività che obbligano le masse a muoversi così che se uno si vuole intanto fare la borsa domenica mattina e poi andarsi a fare la giocata non ha l'imperdenza della mega battaglia e cose varie ma comunque continuiamo a giocare duro infatti c'è un amico che mi ha detto andrei a differenza degli attivamenti siamo arrivati alla fine che mi sono mancate tre ore di gioco avrei giocato altre tre ore in città per chiudere tutto quello che stavamo facendo non è l'unico che me l'ha detto non ti bloccare Andrea non ti bloccare no 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 perché mi sono curioso lo so quindi sì miglioreremo anche questo cosa giugno arriva giugno ancora novità perché eravamo indecisi continuare con i classici cinque giorni però era troppo ghiotto la prova di mettere un giorno in più cosa vuol dire un giorno in più il primo giorno non sarà un vero giorno di gioco ma sarà un giorno di festa vogliamo cercare di noi come sempre i nostri viaggi all'estero ci lasciano sempre spunti idee cose varie che noi poi modifichiamo selezioniamo e cambiamo per i nostri utenti questo punto ci dà la possibilità di mantenere l'arrivo mercoledì come sempre giocare fino a lunedì che c'è 2 giugno e far sì che ci sia un primo giorno dove già di solito tanti di voi vengono martedì vengono campeggiano chiacchiano fanno mangiano stanno insieme cosa che a noi piace tantissimo vorremmo aumentare questa cosa quindi far sì che mercoledì ci sia proprio un po' una festa non in gioco non ci sono non c'è l'obbligo del vestito poi se uno si vuole vestire non è che è vietato però non c'è l'obbligo di essere in costume però dove c'è un po' di musica dal vivo magari dove c'è qualche goliardico gioco proprio una festa per stare insieme diciamo che per avere una serata in cui campo gruppo e cose varie ci mischiamo un po' tutti e stiamo insieme per stare insieme per condividere un momento con persone che poi sappiamo che condividono la nostra passione e anche il nostro stesso modo di volersi divertire che oggi è importante assolutamente assolutamente è una cosa io posso dirti che è una cosa che da noi giù in Sicilia si è fatto per tantissimi anni quello di fare cominciare il live la sera prima con una festa totalmente fuori gioco in cui si sta tutti insieme si abbassano molto i toni della competizione perché in quel momento si vedono le persone per quello che sono persone non indossano nessuna casacca nessuna maglia nessuna fazione e secondo me è una cosa molto bella serve tanto visto che questo hobby è una cosa che amiamo tutti allo stesso modo è bello anche ricordarcelo attraverso queste cose che ci uniscono tutti a prescindere da poi quello che succederà in gioco leggo un po' chi la fa la musica dal vivo ancora stiamo capendo poi magari capiterà anche che faremo delle richieste del come si dice non nei sondaggi come si può dire vediamo se c'è qualcuno interessato a animare la serata e l'idea che il time in di gioco vero sia comunque giovedì sera come sempre cioè diciamo che per chi ha problemi di lavoro di ferie e cose varie nulla cambia non gli leviamo gioco non lo costringiamo a litigare col capo o con la famiglia ma chi ha la possibilità e viene un giorno prima come dice Danilo è una bella serata di cazzeggio in compagnia che secondo me ci fa partire l'evento già con la marcia giusta sono d'accordissimo sono d'accordissimo signori senti Danilo puoi chiudere il giveaway il punto è che fondamentalmente siamo arrivati in dirittura di arrivo perché gli argomenti della schedetta li abbiamo conclusi sei stato bravissimo Andrea oggi mi hai veramente reso fierissimo ma siamo andati fortissimo abbiamo toccato tutti i punti che volevamo toccare abbiamo risposto alle domande ma credo che prima di dichiarare un saluto generale sia necessario svelare chi è il nostro vincere comunque li avete fatto perdere la scommessa di Andrea Baldacci io ve lo dico vergognatevi per quattro persone 796 796 potevamo fare un secondo giveaway on the fly e avete deluso guardate che faccio 797 797 ragazzi tre persone ragazzi io ve lo dico se voi buttate tre persone dentro una mamma una sorella una nonna io tengo Danilo qua a chiodo facciamo un attimo 10 minuti 15 minuti di chiacchiere facciamo un altro giveaway sicuro però bisogna 800 allora facciamolo così facciamolo così dobbiamo arrivare a 800 entro le 10 e 55 le 10 e 55 avete 4 minuti sento generoso guarda che non fammi vincere questa scommessa guarda 4 minuti guarda 4 minuti diamo gli sto schiaffo morale via chiamate nonna zia e chi ne pare fate chiunque siamo 104 online ragazzi se noi li troviamo qua rapide ecco new follower 800 signori 800 oh dai siete grossi 800 incredibile incredibile vi avete fatto vedere la scommessa con Andy 800 guarda quanti 0 800 che belli che siete vai con questo primo giveaway vai con questo primo giveaway vediamo chi vince allora mo tocca fa secondo eh sì intanto vediamo chi ha vinto il primo così ce lo togliamo e facciamo partire subito un altro new follower dell'801 mai io non riesco a vederlo dindio dindio non sappiamo bene chi sia o dindio chi lo sa come si legge se dindio o dindio complimenti complimenti fermi tutti stop alle telefonate stop alle telefonate stop 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 perché adesso ripartiamo perché avete fatto vincere a Dandy Baldacci la scommessa e vi beccate proprio giusti un quarto d'ora di aneddoti baldaccici e facciamo ripartire il giveaway dindio mi raccomando mostrati come sempre scrivi alla pagina così potrai avere il tuo ingresso per giugno 2025 e farci ciò che meglio credi ragazzi guarda guarda la faccia contenta perché prima della live mi hanno detto no dai ne mancano troppi è difficile non la buttiamo la così invece sì ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta siete grandiosi mamma mia sto vedendo come un porcello guarda ragazzi vi concedo anche una domanda ripartito il giveaway ripartite ripartite che c'è un altro ingresso e gliel'abbiamo rubato un'altra cosa un'altra cosa che vedi allora a breve apriremo un canale tiktok verissimo ci stavamo diventando questa cosa importante canale tiktok stiamo già producendo un po' di video short video veloci con scritto e cose varie ma mi piacerebbe anche questa è una scommessa ragazzi perché si è bloccato io credo fortemente in voi ci piacerebbe che rendervi ancora più protagonisti adesso mi ha abbandonato Danilo non mi abbandonare qua è finita se non ci stai è finita eccolo eccolo rendervi ancora più protagonisti vi spiego cosa ho in mente mi piacerebbe dandovi delle linee guida quindi secondi qualche linea guida sapete che non sono il mago del computer non sono io un esperto che vi dirà le linee guida ma vi daremo delle linee guida e vi chiediamo di fare un video con la vostra trasformazione di gioco cosa significa ne ho visti diversi andavano un po' di tempo fa quindi i più esperti mi hanno detto ma se è solito boomer queste cose non vanno più ma è un boomer ragazzi letteralmente mi piacciono troppo cioè io mi immagino che ne so una di voi che lavora in banca con giacca e cravatta che fa il video che cammina in giacca e cravatta gli casca la penna fa per accoglierla e faccia via poi il vestito da vichingo e sfodera il suo vestito migliore questa è la trasformazione che mi piace l'idea è di prendere le vostre trasformazioni da vita comune a giocatore caricarle sul tiktok lasciare un tot di tempo per fargli mettere like da più persone possibili e poi quello che avrà avuto più like fargli un regalone pazzesco non ti allarghi a non lo dire ancora già hai detto molto più di quello che avremmo dovuto dire un regalone pazzesco questo perché mi piace che per me siete voi la nostra pubblicità più bella i nostri sponsor migliori che quando vi sento a volte in fiera ci sono giocatori che parlano poi con altre persone raccontando la loro storia ed è quello che a noi piace è quello è il nostro modo di avere nuove persone portate da voi persone che sentono la vostra passione facciamogliela vedere mamma guarda i follower abbiamo superato gli 800 sì no vabbè ormai follower iscritti è un'altra scommessa che faccio voglio riuscire ad avere le vostre trasformazioni più possibili io non sono capace a farla però chi è bravo mi ha detto che è facilissimo cioè lo fanno col telefono ok quindi a breve vi daremo le indicazioni perché a me piacerebbe aprire questo contest a Lucca per un po' avere il fiume di gente che girerà sui nostri canali da Lucca per avere più click possibili sui vostri video e vedere veramente quale sarà il video più apprezzato il guerriero grandissimo la maga il nano barbuto fate voi trasformatevi come meglio potete però secondo me è figo e poi è un modo carino per farvi un bel regalone vai ah sì si è stato nel frattempo la regia svela a tutti che se andrei a versare personalmente mille euro sul conto della regia anche perché se ce la fate in otto minuti siete brevissimi mi stanno domanda ragazzi so che novecento è troppo ma diteglielo che non vedevano sfidare stasera avete dimostrato che potete fare cose grandissime grandissime in faccia a tutti i malfidati sotto con questo giveaway ragazzi sotto che abbiamo un altro ingresso per giugno lampo lampo secondo ingresso per giugno così poi ci salutiamo col secondo biglietto e stiamo a più di cento io volevo comunicare di indio che il vincitore dello scorso biglietto di contattare la pagina facebook di battle for villages perché tramite twitch non si può fare il messaggio privato quindi contattate la pagina di battle for villages che così ti mandiamo tutte le informazioni del caso allora edo sicuramente si faremo degli appuntamenti su discord io vi dico che sicuramente voglio fare una riunione per campo per chiacchierare sull'evento passato e sui progetti futuri del campo e vi dico anche che il mio numero è quello che trovate sul sito sui bagni degli autogrill ovunque lo trovate il mio numero di telefono o sapete come contattarmi se il vostro gruppo se avete necessità di fare una chiacchiera io sono nell'umana concezione del tempo sempre disponibile no no mi fa piacere quindi se un gruppo un campo vuole fare una chiacchierata vuole parlare di un di qualcosa di un soprattutto è importantissimo per noi sapere il vostro pensiero anche le vostre voglie noi vorremmo fare vorremmo cimentarci ci piacerebbe questo ci piacerebbe quello per noi è importante comodo e piacevole ma certo che si può mandare messaggio privato su twitch boomer regia ti hanno dato del boomer regia io io bannerei non sono l'unico boomer quindi bravo segna il nome segna il nome che poi tanto noi assolutamente non siamo mendicativi zero assoluto ci segniamo il sole ma il nome solo così così per la questione di precisione per dare un racconto dopo il live ho avuto vari scambi di messaggi con questo o quell'altro giocatore e un'amica mi ha mandato un messaggio con un po' di chiacchiere e poi mi ha detto mamma mia mi porto ancora i libidi di una battaglia e gli ho detto almeno te stavi in battaglia e te potevi difende io so tre settimane c'ho un libido così sopra la spalla e manco gli potevo rispondere perché ero con la maglietta mi hanno dato una botta sulla spalla mostruosa ok c'ho del libido per cose varie ovviamente dice che non l'ha fatta apposta ahà devo capire come fai a PM1 con la maglietta rossa sulla spalla forte forte nel senso che o ti hanno tolto gli occhiali e sei tipo furia cieca però vabbè diciamo che non c'è stato però vabbè scherzo capita c'è stato un assedio per esempio che hanno pesantemente attentata le mie virilità con le girocchie o con le spade no con le spade con le lance più di una volta a certo punto ero messo in una posizione tutta tutta contorta perché mi continuavano a menare insomma diciamo che di botte ne prendiamo a Iosa a Iosa proprio però insomma ci sono state un paio di un paio di campani è un paio di assedi che mi sono tagliato dalle risate io chiedo sempre scusa perché magari durante le campane o durante gli assedi mi sentite commentare o vi arriva qualche bestemmia da parte mia perché state è un po' brusco durante l'arbitraggio se qualcuno se la prende per i miei modi mentre arbitro vi prego diteglielo se lo conoscete non è nel senso che non sono arrabbiato non sono però c'è poco tempo devo arrivare velocemente all'informazione velocemente a voi e quindi sono diretto e brusco ma senza cattiveria e senza non rispetto assolutamente assolutamente soltanto che ho poco tempo c'era un assedio Dani dove c'era da una parte un ragazzo con un'arma che faceva crash parte e rompe il primo scudo e poi si sposta bravo sapeva spostare sapeva che si doveva levare parte e rompe il secondo e quindi chiamano qualcuno per levarsi questo rompivalle che gli spaccava gli scudi arriva il primo utente di magia e gli fa un bel fear che non è un buon modo per levarlo quindi questo corre un po' poi torna più incazzato di prima ok e continuava a rompere gli scudi bene e io stavo là arriva il secondo utente di magia e cosa gli fa un secondo fear ovviamente questo va via poi quando tornava mi guardava ok perché io intanto bestemmiavo dicendo ma come cazzo fai a fa fear ok e io diceva zitto e vabbè ok a un certo punto sento dalle retrovie un calling qualcuno che fa oh ma perché non gli fate un calling bravo dai cazzo calcolate che quello che aveva l'arma con crash mi ho guardato malissimo se poteva mi fulminava però già aveva fatto il suo dovere già ne aveva rotti in amarea perché gli hanno fatto due fear due repel cioè gli hanno fatto tutto ciò che non era utile a levarlo tutto ma aveva tanta armatura lui era comunque pienotto quindi comunque aveva no no perché se no gli puoi fare la cattiveria tu lo punti e gli fai fear e aspetti che torna per rifargli fear e aspetti che torna per rifargli fear e a un certo punto spompa è buona perché quello muore a 30 secondi ma in particolare in questo caso questo ragazzo era uno allenato ah è atletico allora è inutile andava e tornava e io contavo velocemente perché voleva voleva tornare a spaccare qualche altro scuso ma la scena è stata cioè quando gli ho applaudito lui mi ha guardato proprio male 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 intanto vedo delle domande vedo anche che i nostri che sono i bg stessi che danno le risposte ottimo ah ultima cosa per il futuro ringrazio tutti quelli che in questo evento hanno iniziato a migliorare le loro tende in game vi ringrazio è un primo passo ricordatevi che da qui a giugno c'è molto tempo e a giugno esigeremo eh un livello di tende in game di un po' più alto un po' più alto ripeto non chiediamo assolutamente di levare il tetto bianco impermeabile dei gazebi quello è sacrosanto è comodo non vi fa bagnare quindi va benissimo ma le pareti intorno le vogliamo di stoffa eh colorata possibilmente decente non quella lucida come i pestitini delle sei anni alla all'area delle elementari eh sono disponibili a qualsiasi consiglio molti mi hanno chiamato prima dell'evento mi hanno chiesto ma secondo te questa stoffa assolutamente sempre disponibile a darvi consigli quando volete il numero mio è stampo acceso però arriviamo a giugno ancora un pezzettino avanti dai che comunque è bello per tutti che le che gli accampamenti siano più belli da vivere da vedere da visitare quando vai in ambasceria in un altro campo vuoi vedere un bel campo e quindi anche tu quando stai in giro nel tuo campo vuoi vedere un bel campo perché fa tanta atmosfera avere un bel campo secondo me è ovvio che chi vorrà mantenere il gazebo bianco con le tendine bianche di plastica non è che gli è vietato portarlo eh assolutamente ma si metterà in fondo nell'aria out quindi può sempre portarlo per dormirci eh non è che noi vietiamo sapete che la nostra i nostri divieti sono molto 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 pochi eh però è ovvio che non vogliamo vedere alcune cose nell'aria prettamente di gioco soprattutto come prime tende che si vedono nel campo 30 secondi allo stop alle telefonate 30 secondi 30 secondi secondo giveaway punto esclamativo giveaway grazie a voi siete stati spettacolari quindi siamo qui sto facendo il countdown Andrea vai di la tua ultima cosa che te la sento e ce l'hai lì in canna no 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 stavo leggendo eh assolutamente è vero a settembre siete migliorati in tanti piccoli dettagli ancora abbiamo strada avanti ma questa è la via giusta quindi eh sono assolutamente contento e vai 10 secondi 10 secondi gli ultimi chiamati in più ci sta riprovando ci piace eh ti sei beccato le manine eh bravo 5 secondi 4 3 2 1 stop alle telefonate mamma mia quindi erano 25 almeno 30 anni che volevo fare questa cosa di poter dire stop alle telefonate in diretta il bello della diretta allora regia scopriamo chi è il fortunato vincitore la regia ci fa scoprire Megabland Megabland vince un ingresso a giugno 2025 eh anche a te Megabland per favore contattaci sulla pagina facebook di Battle for Villages con le tue reali credenziali ehm e e beh signori 806 806 mi avete fatto fare una figuraccia con Andy Baldacci bravi bravi perché gli abbiamo strappato secondo mi avete stupito con effetti speciali proprio ragazzi noi assolutamente ci rivedremo sicuramente presto per un'altra live con ehm mi stanno venendo anche in mente live un po' non solo di noi ma una live un po' per chiacchiere ehm quindi chiacchiere varie sì quanto gli piace chiacchiere Andrea Baldacci magari invitiamo un amico che ci farà una ehm panoramica degli eventi in tutta Europa dove potremmo andare a giocare dove posso andare a giocare pur io ah già ho idea di chi a chi ti riferisci secondo me va bene quindi ragazzi pronti ci vediamo alla prossima nel frattempo non scappate subito perché stiamo andando a fare una super sorpresa a Manfredi Marcus Krohn eh a cui faremo un bel ride subito quindi rimanete ancora qualche secondo per fargli un saluto grazie infinite per essere stati con noi grazie per aver sopportato le mie rotture di scatole e le follie di Andy Baldacci ci vediamo alla prossima e come sempre state bene ciao ragazzi buona serata grazie a tutti